Per semplificare, immaginate che sia come un registro bancario, però invece che essere in una banca è diffuso su centinaia di migliaia di computer e che nessuna forza, né politica né tecnologica, cioè né la Cina né la CIA per dire, per cambiare solo una lettera, possono alterarne il funzionamento. Blockchain senza bitcoin in realtà non è del tutto una presa in giro ma quasi. In che senso? Per fare un esempio, quando studiavo informatica alle superiori, studiavo i protocolli di internetworking, cioè i protocolli per connettere assieme più reti di computer. È una cosa che non ha più senso adesso. Nessuno parla di protocolli di internetworking, esiste solo internet ed è folle pensare a un protocollo simile ad internet che fa più o meno la stessa cosa in maniera diversa. C'è quello e basta. È lo standard per la comunicazione tra computer. Secondo me accadrà la stessa cosa con bitcoin. Adesso abbiamo il termine criptovalute o anche blockchain, ma l'unica blockchain sicura è quella di bitcoin. Tutte le altre sono, nel miglior dei casi, dei progetti sperimentali, perché bitcoin non è solo moneta, non è un prodotto, non è come un MySpace che viene soppiantato da Facebook. È più simile al protocollo internet che non viene soppiantato nemmeno dalla sua stessa evoluzione. È da 20 anni che proviamo a passare da internet versione 4 e internet versione 6 e non ce la stiamo facendo, quando anche tutti gli attori sono favorevoli. Quindi questo è un motivo per cui quando parlo di blockchain intendo la blockchain di bitcoin, perché le altre non sono affidabili se non per giocare. Dall'altro canto, anche se in quest'anno c'è stata un sacco di media che hanno parlato di blockchain senza bitcoin, tecnicamente è un assurdo. È come se io provassi a vendervi l'acqua asciutta. Io l'acqua asciutta la posso vendervela solo se non sapete che cosa è l'acqua. E la stessa cosa, una blockchain privata è una cosa di cui posso parlarti solo se non sai cos'è una blockchain. Beh, è qualcosa che prima non esisteva. In realtà la moneta è una tecnologia antichissima che risolve il problema della coincidenza di interessi nel baratto. E bitcoin è, come dire, la quarta incarnazione della tecnologia della moneta. Le prime erano basate su pelli, cioè su beni fisici, conchiglie rare. Poi siamo passati all'epoca metallica, l'oro, l'argento, l'electro. Infine, anche in Italia abbiamo inventato le banche con le note bancarie, note di credito. E adesso finalmente abbiamo una moneta non più basata su una merce rara, su un metallo raro o sulla forza politica di un paese, ma finalmente basata su qualcosa di incorruttibile come la matematica. In realtà è un po' più complicato così, c'è dentro la teoria dei giochi, c'è dentro la fisica, ci sono incentivi economici, però abbiamo finalmente una tecnologia della moneta e ce ne siamo riappropriati come popolazione mondiale. Abbiamo una moneta basata sul lavoro, non inflazionabile a piacere da decisioni politiche e soprattutto programmabile. Il bitcoin si può vedere anche come un internet del valore, cioè una tecnologia ad accesso aperto che disintermedia quello che c'era prima, internet ha disintermediato il commercio e la comunicazione, e finalmente abbiamo una tecnologia che disintermedia una delle industrie più arroccate, cioè una torre d'avorio come l'industria del modo finanziario e economico. Senza entrare nel spiegare il perché, posso dire che il bitcoin, oltre ad essere moneta e liberamente scambiabile in tutto il mondo, non censurabile, realizza anche una cosa che non esisteva prima per l'umanità, cioè un database inalterabile da chiunque. Per semplificare, immaginate una libreria di Alessandria che non può essere incendiata. Mi sono occupato per la prima volta di bitcoin per un intervento pubblico a Pordenone. Mi avevano invitato a parlare a un TEDx, che è una specie di evento di diffusione di idee nuove, e finivo l'intervento parlando di bitcoin. In quel momento ero ricercatore, mi occupavo di web semantico all'FBK, che era un centro di ricerca, diciamo, di quella che veniva chiamata una volta intelligenza artificiale. E anche nel centro mi sono occupato di bitcoin, inizialmente come ricerca. e poi invece è venuta la voglia di occuparsi al 100% di questa attività e sentivo l'urgenza di semplificare l'accesso ai prodotti tecnologici bitcoin e blockchain. Per cui ho fatto una start-up in Trentino, che si occupa di fare consulenza e di sviluppare servizi e prodotti su bitcoin e blockchain. Per fare un parallelo, se ci trovassimo negli anni Sessanta davanti a un computer dei tempi, cioè un armadio, anzi qualche armadio pieno di lucine, quanti vedendo quel computer si sarebbero immaginati Facebook o il fatto che posso giocare a un gioco di guerra toccando le mie dita su uno schermo di vetro, giocando con un coreano, nessuno l'avrebbe potuto immaginare. Per cui alcune cose riusciamo a immaginare. Per spostare denaro, bitcoin ha tecnologia superiore, nel senso che è aperta 24 ore al giorno, 7 su 7, 365 giorni all'anno, non è che devo fare un bonifico e aspettare 4 giorni lavorativi o 3. È un'altra tecnologia, per cui tutto quello che si faceva con i sistemi tradizionali si può fare col bitcoin in maniera più economica, più facile e più versatile. Avrà delle ricadute su diversi settori industriali, dalla supply chain, nel quale può risolvere, cioè la supply chain sarebbe la filiera produttiva industriale, nel quale può risolvere alcuni problemi o costi legati al trasferimento, al mantenimento della fiducia, che è necessaria per tutte le transazioni economiche, e poi le applicazioni anche non monetarie e di sicurezza del dato. Cioè un dato che io scrivo sulla blockchain, che sarebbe il registro di bitcoin, è inalterabile nel tempo, per cui è una specie di quasi, non so, capsula del tempo, avrà tutte applicazioni dove è importante che un dato non venga alterato. Pensiamo ad esempio al catasto. I catasti adesso da cartacei sono passati ad elettronici, ma se un hacker arriva su un sistema dove c'è un catasto e prende il controllo del sistema, come fai a sapere che non abbia alterato i dati? Non lo puoi sapere, perché potrebbe aver alterato anche il backup dei dati. Se invece questi dati, o la firma digitale di questi dati, viene inserita nella blockchain, possiamo dimostrare che i dati non sono alterati. Questo non è un caso irreale, è accaduta una cosa del genere in un stato del Sud America, dove hanno dovuto riacquisire la documentazione cartacea, perché avevano il sospetto che dopo un attacco hacker, che i dati non erano più affidabili. Per cui può far risparmiare costi elevati. Poi oltre all'usi per il mondo occidentale, cioè il sistema di pagamento, dove magari lo posso utilizzare per comprare su Amazon scarpe in maniera scontata, tramite Purs, approfondito è interessante. Invece bisogna calcolare che più del 50% della popolazione mondiale è senza accesso a strumenti bancari. E non li avrà, per un sacco di motivi, tra cui il fatto che 2 miliardi di persone non hanno identità statale. E senza l'identità la banca non ti eroga servizi. Mentre il bitcoin te lo puoi erogare, perché al bitcoin non interessa chi sei. Come è internet non interessa chi sei. È la stessa cosa. Come è internet è uno scambio di informazione digitale tra due software, in realtà. Anche il bitcoin lo è. È scambio di valore tra due software. Più in maniera generica, bitcoin è l'invenzione della non duplicabilità in ambito digitale. Ci siamo resi conto che, immaginandoci questo albero tecnologico di bitcoin, nel quale ci sono dei frutti maturi e dei frutti sugli alberi più alti, che devono ancora maturare, le tecnologie future, ci siamo resi conto che la maggior parte di chi aveva competenze tecniche, che sono pochi ancora, e che aveva compreso il fenomeno, era interessato, giustamente, li capisco perfettamente, ai rami più alti, cioè ai frutti acerbi, quelli non ancora pronti, quelli che verranno fra qualche anno. E chi invece sarebbe stato in grado di portare sul mercato le tecnologie bitcoin, non aveva la competenza tecnica. Per cui in bitcoin raduna le due competenze, una conoscenza di mercato e la competenza tecnica e la volontà di portare i frutti maturi che sono veramente trascurati dalla comunità tecnica bitcoin sul mercato. Perché? Perché quei frutti maturi che per, diciamo, i bitcoiner più esperti sembrano banali o poco interessanti, per il mercato è pura fantascienza, già quelli dei rami più bassi. Per cui il nostro scopo è riuscire a semplificare l'accesso per i non-bitcoiner. Per cui i nostri prodotti sono per quelli che non sanno cos'è bitcoin. E facciamo dei servizi per i commercianti, per accettare bitcoin in maniera semplice, ma anche formandoli, insegnandoli come trasformare i loro clienti in bitcoiner perché ne tragano un vantaggio economico netto. Bitcoin permette, come dicevamo prima, di disintermediare e la disintermediazione porta a riduzione di costi, chiaramente. Per cui riduzione di costi per i commercianti e per, diciamo, le piccole e medie imprese. In realtà potremmo fornire servizio anche alle grandi, non è un problema di tecnologia, è un problema di gestione. Per cui per adesso ci interessano solo i piccoli e i medi, però in futuro questo cambierà. E poi l'altra cosa che facciamo è dare i prodotti ai consumatori, per cui abbiamo un wallet che uscirà, diciamo, ufficialmente domani, che è altana. Un wallet super sicuro, ma con un'interfaccia più semplice e dove alcune funzionalità più complicate sono rese più facili, anche più belle. Grazie.